Siamo il sindaco, una giornata per scoprire il territorio del Friuli orientale ma anche per riportare i nostri co-regionali in zona. Certo, infatti Sapore in Cantina è giunta alla nona edizione e quest'anno abbiamo l'onore e il piacere di ospitare per la terza volta consecutiva una delegazione della Serbia Montenegro guidata da collaboratori e amministratori del comune di Monfalcone con cui collaboriamo per progetti di cooperazione internazionale. Inoltre abbiamo anche il piacere di ospitare figli di emigranti friulani che provengono direttamente dal Canada e hanno scelto questo periodo di ferie per tornare nella matta piccola patria e per partecipare a Sapore in Cantina. Inoltre abbiamo altri rappresentanti di regioni che sono parecchio distanti dalla nostra, per esempio poco fa ho salutato una coppia di amici che provengono dalla Calabria, quindi non proprio da dietro l'angolo. Quindi Sapore in Cantina sicuramente da questo punto di vista ha successo e ha modo di far conoscere il nostro territorio a parecchi ospiti. Vedo che siete muniti di kit di sopravvivenza, dunque classico. Certo, il kit di sopravvivenza ovviamente consiste in un bicchiere che servirà per degustare tutti i vini eccellenti forniti dall'azienda in ciascuna tappa e ovviamente al seguito c'è anche un kit per partecipare a quello che sarà l'accompagnamento alle degustazioni, quindi delle portate, dei primi piatti, dei secondi e dei contorni in ogni tappa che farà scoprire un nuovo angolo del territorio e nuove realtà imprenditoriali. Bene, adesso andiamo a sentire i nostri amici che arrivano, anzi i nostri co-regionali, i ministri Fradis Furlan, che sono rientrati, lui è dal Canada. Io sono il presidente del Focolare Furlan di Monfalcon e già dall'inizio di questa manifestazione è sempre stato solidale a partecipare e a portare anche il Focolare Furlan. Come senti, dici che a Monfalcon si chiacchia il bisiccio, no? E lei è un po' strano, non senti un Focolare Furlan a Monfalcon, cosa è nascita questa idea? Il Focolare Furlan di Monfalcon è nascita nel 1955, quindi alla 62 anni, subito, quindi ha un lungo percorso di un Furlan che è stato a lavorare nel canter di Monfalcon. Però comunque se vengono anche a Monfalcon si siano più Furlan che Trieste, non c'è nessun senso, se vengono a chiedere bene le cose. Ma, sì, è un comune venetofono e quindi mescolate di ente, però è di dire sì che da un'estatistica fatta a suo tempo, Furlan e discendenza di Furlan sono circa 100.500, Monfalcon. È una bella cifra, sì, è una bella cifra che comunque si aggrega anche a ente che vengono dall'estero, dall'estremo oriente, per cui Monfalcon è una città molti etnica. Molti etnica, bene, allora voi stessi a fare, per curiosità? No, tutti gli stappi che la prologo di Dolegne ha impostato per cercare i vini e le specialità locali. Allora, intanto lui lo assenca, il vado è a organizzarsi. Invece adesso andiamo a sentire altri protagonisti di questa tappa, lei arriva da? Monfalcone. Lei invece non parla friulano, lei parla proprio del tipico venetofono. Assolutamente, questa è una delle manifestazioni più belle d'Europa, penso, perché accompagna la conoscenza dei piatti e dei prodotti tipici del territorio, ha la visione delle aziende agricole, quindi delle coline che sono fra le più belle, penso, d'Italia, in un mese, tra l'altro, dove i colori della natura sono spettacolari. Quindi, diciamo, è una grandissima festa per chiunque partecipi. E lei, vedo che è munito di kit? Assolutamente, noi collaboriamo con questa manifestazione in alcuni progetti internazionali che abbiamo. Lo scorso anno avevamo qui una delegazione argentina, proprio dalle zone dove si producono vini, sono rimasti anche loro evidentemente entusiasti di questo tipo di manifestazione. Bene, lasciamo allora prepararsi. Allora, andiamo a sentire invece la signora, qui da dove arriva? Io arrivo da Montenegro. Lei arriva dal Montenegro, però vediamo che parla molto bene l'italiano. Eh sì, sì, parlo italiano perché mi piace la vostra lingua così. Lei sa che noi avevamo un legame col Montenegro. Sì, 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 infatti io vengo con un'agenzia che connessa diversi progetti con la vostra comune, così abbiamo un buon rapporto. Io vengo da Facoltà di Montenegro, Università di Montenegro, che siamo anche partner, così sono contenta di essere qua. Penso che è la prima volta che sto qua. Penso che mi piaceranno i vostri vini. Immagino, immagino. Senta, come vedete voi l'Italia, come è vista dal Montenegro? Il Friuli, come è vista dal Montenegro? I Montenegro mi piace l'Italia tanto. La visitano, la storia di Italia è affascinante, così ci piace tutta, ci piace tutta. Allora la lasciamo a degustare e a passare questa bella giornata. Sì, sì, grazie, grazie. Giornata multiterritoriale per quanto riguarda questo evento. Ad esempio, lei signora col marito, immagino, arriva dalla Calabria. Sì, siamo... Perché è zona della Calabria? Nel Crotonese. Nel Crotonese, perché abbiamo un amico qua che abbiamo rivisto dopo 40 anni e quindi ci ha accompagnato in questo giro. Speriamo di vedere delle cose belle. Sì, è una bella zona qua, si respira aria pulita, si vive l'ambiente territoriale come rio comanda. Mi sembra di sì, da una prima impressione, sì. Non ho ancora una conoscenza approfondita del posto, però da quello che ho visto, sì, mi sembra di sì. Grazie, buona giornata. Il signore invece cosa dice? Concorda con quello che ha detto la signora? Sì, sì, sì. Anche perché noi veniamo pure in una zona dove abbiamo il vino Ciro. Non lo so, non lo so se sentite nominare. Mosco e anche Bevuto. Ecco, e lì è pure una zona, vediamo di confrontare i vostri metodi pubblicitari. Senta, ma è arrivato col Ferrebot o è arrivato con la macchina? Con la macchina, sì. Ha dovuto farsi la Salerno-Reggio Calabria. Sì, sì. Senta, com'è questa nuova Salerno-Reggio Calabria, tanto strombazzata al Presidente? Stanno sempre lavorando, è un cantiere sempre aperto. Lei lo sa perché Annibale quando ha tentato di invadere Roma ha fatto il giro per la Spagna? Sì, sì. Per evitare proprio la Salerno-Reggio Calabria, perché già all'epoca erano problemi. Sì, ma di là delle battute, com'è una bella giornata di sole, un po' questa italianità, no? Che troppo spesso a volte viene usata solo per le partite della nazionale di calcio, invece si può dimostrare che gli italiani ci sono ancora, no? Certo, certo, certo. Ho visto una bella zona e mi piace molto, devo dire la verità. Sì, è la prima volta comunque di quello che... Sì, è la prima volta che... Allora la lasciamo, vedo che anche lei si è munito di kit e buona giornata, grazie. Sì, grazie. Allora abbiamo rintracciato i nostri due co-regionali, arrivano da Toronto, dal Canada, però in particolare la signora Birna, ecco lei è originaria, ricordiamo, di Pordenone, no? Genitori italiani, io sono seconda generazione, adesso siamo tutti a Toronto, veniamo qua... Che sono dalla provincia di Pordenone? A Sanodecimo, sì. Sì, sì. Viene nel 159, suo papà e sua mamma si sono trasferiti. Sono immigrati, sì, sì. E adesso ogni tanto veniamo, facciamo delle visite, abbiamo visto via internet che fanno questi sapori in cantina, abbiamo deciso una cosa bella in questa zona, molto bellissima, abbiamo chiamato e adesso ci troviamo. Senta, come si vive in questo periodo in Canada? Voi italiani, anzi voi friulani, come vedete il friuli dal Canada? Ah, dire la verità, noi sappiamo solo quello che si vede sulla televisione, però quando noi veniamo qua vediamo che la gente vive molto bene, vanno fuori, si divertono, si vivono molto molto bene. Mangiano bene. Mangiano bene, quello è importante. Infatti, invece lei è originario anche lei dell'Italia, del friuli? Sono nato in Toronto, i miei genitori sono da Campania e Frosinone. È una zona dunca, addirittura tra la ciocceria e la Campania. Sì, sì, mia mamma è 10 minuti da Cassino, mio padre è da provincia di Avellino e io sono nato in Toronto. Quanti anni fa sono trasferiti i suoi genitori? 1954 e 55 per mio padre. Probabilmente. Sì. Insomma, voi vi siete conosciuti e avete continuato a mantenere in vita, almeno la tradizione italiana. Sì, il più possibile veniamo a trovare famiglie che ancora si trovano qua. La zona è meravigliosa, ci piace molto. Allora, buon divertimento e, come si dice le nostre parti, mandi! Grazie. Grazie. Grazie, ciao. Per il secondo Blitz ci siamo spostati a Cormons. Oggi è giornata dedicata a Io non rischio per quanto riguarda questa campagna promossa dalla protezione civile in Friuli Venezia Giulia. Vediamo, insomma, per fortuna la giornata è bella e soleggiante, ma quello che conta è che la gente sta venendo vicino a capire e conoscere. Sì, c'è parecchia sensibilità, vedo anche sugli argomenti, sono partecipi e poi quello che noi ci teniamo è sicuramente a far amare il proprio territorio e fare in modo che anche i cittadini siano tutti protezione civile, come protezione civile sono i cittadini. E quindi parlare dei rischi dell'alluvione in una zona dove purtroppo ogni tot succede è importante. Vedo che la risposta è sicuramente più che positiva, più che attenta. Conoscere, come ha detto lei, conoscere bene il territorio perché l'informazione è continua. Ogni giorno, ogni momento, ogni minuto bisogna essere sempre pronti e reattivi a intervenire nel caso in cui ci sia la chiamata. Certo, sicuramente, comunque anche per questo poi ci sono dei piani di emergenza appositi. Il cittadino, se vuole, può anche comunque chiedere in comune ed essere sempre informato, o tramite noi o tramite il comune. Certo, cosa vuol dire oggi come oggi fare l'operatore di protezione civile? Perché più che volontari, voi siete degli operatori veri e propri. Beh, è importante, quello che vorremmo fare è cominciare a sensibilizzare, a cambiare un po' la mentalità, tornare un po' come era una volta. Una volta era la nonna che puliva il marciapiede fuori e quindi tornare a questo, se c'è un tombino sporco, non far finta di niente, vedere che in quel tombino può cadere qualcuno dei miei anche. Possiamo dire che la protezione civile in un certo senso era nata anche a livello locale, quasi per non sapere cosa fare, ma invece negli ultimi anni si sta sempre più potenziando sul territorio. Molti giovani, vediamo, no? Sì, questa è una cosa molto importante, anche qua nel gruppo sicuramente ci sono molti giovani ed è una cosa importante perché gli stessi giovani poi portano altri giovani ed è un'opera di sensibilizzazione notevole, perché un conto è che lo fa una persona di 50 anni, un conto invece altri giovani che vedono altri ventenni che entrano, gli viene voglia anche di intervenire. Bene, buon lavoro. Grazie, anche a lei. Grazie. 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 Grazie.